ciao benvenuto in questa mastery session oggi vorrei parlare con te di un argomento che mi sta veramente molto a cuore vorrei parlarti del di quella che secondo me dovrebbe essere la cosa più importante che tutti dovrebbero fare nella vita che nelle scuole dovrebbe essere insegnata ogni giorno con ore e ore di approfondimenti di lezioni di incontri ovvero il conoscere se stessi vedi conoscere se stessi se ci pensi è la cosa in assoluto più importante perché se tu conosci te stesso tu puoi usarti puoi usare te stesso puoi vivere la tua vita perché se tu conosci te stesso sai cosa ti fa bene cosa ti fa male cosa ti serve cosa ti è utile che cosa ti dà forza cosa ti dà energia sai anche che cosa ti indebolisce che cosa ti toglie energia che cosa ti affatica che cosa ti ti rende più vulnerabile conoscere se stessi è importantissimo l'avrei sentito forse a scuola si parla di questo quando si fanno i vecchi filosofi greci non si parla di socrate di questo famoso diktat che lui diceva un uomo conosci te stesso presente su quello su quell'oracolo ad elfi dedicato al dio appollo o uomo conosci i tuoi limiti impara conoscere veramente quali sono i tuoi confini conoscere se stessi è molto importante per questo motivo in questa mastery session vorrei dedicare dedicare del tempo a approfondire nove attività riflessioni che a mio avviso sono utili per sviluppare sempre maggiormente una conoscenza di se stessi la prima attività che ti chiedo di fare è quella di fare una lista fare una lista di quali sono di quelli che sono i tuoi valori di riferimento quali sono secondo te i tuoi valori di riferimento quelle che sono gli aspetti valori proprio più importanti ciò che per te ha valore nella tua vita fai una lista fai una lista completa casa lavoro realizzazione effetti amore successo fai una lista dettagliata anche nello specifico magari anche legata ad aspetti specifici di questi temi più generali quindi relazione di coppia quindi amicizia quindi riguarda degli effetti no oppure nel lavoro uno specifico lavoro uno specifico attività fai proprio una lista dettagliata di quelli che sono i valori più importanti nella tua vita e di quelli che sono anche le attività più importanti che tu ogni giorno porti avanti dai anche un ordine di priorità quindi dai un ordine di priorità quali sono le cose per te più importanti di tutta quella che è la tua esistenza fai un elenco dai delle priorità vedi cosa metti al primo posto che cosa mette a seconda terza al quarto e prova ad osservare anche se le attività che vai ad aggiungere la lista sono coerenti con questi valori con queste priorità ecco fai delle riflessioni rispetto a questo i valori che per me sono più importanti sono coerenti con quello che effettivamente faccio il primo posto è la famiglia va bene ma poi dopo passo tutto il tempo a lavorare allora c'è coerenza fatti queste domande sono importanti non averne paura le domande sono importanti anche se a volte ci mettono in crisi perché ci permettono di capirci ci permettono di analizzarci ci permettono di capire sempre più che cosa realmente viviamo siamo nella nostra vita ci permettono di raggiungere una maggiore coerenza e la coerenza e forza determinazione pazienza e umiltà e tante cose quindi fai una bella lista analizza la coerenza fra quali sono le tue attività e quali sono i tuoi valori e valuta bene se vi è coerenza o meno e soprattutto fissati bene in mente chiarisciti quali sono gli aspetti per te più importanti quelli che sono veramente le priorità la seconda attività che ti propongo di fare è quella di andare a analizzare e quindi ancora facendo un elenco su un altro foglio di quali sono i modelli di pensiero e di relazione oltre che le credenze che tu hai assimilato dai tuoi genitori in questa massa recession ti sto proponendo degli esercizi che mi rendo conto essere importanti impegnativi che richiederanno tempo non sarà una cosa che riuscirai a immediatamente facilmente ti consiglio però di darti il tempo di cui per fare questo proprio perché è come dicevo all'inizio la cosa più importante che possiamo fare perché se conosco me stesso posso fare tantissime cose quindi fare un elenco di quali sono le qualità i modi di pensare i modi di relazionarti che hai acquisito assimilato dai tuoi genitori per modellamento osservandoli vedendo come facevano loro fin da bambino fai un elenco e fai un elenco suddividendo quali sono quelli positivi che per te oggi sono importanti nella tua vita che ti sono utili con quelli negativi che invece ti limitano per esempio potresti aver acquisito una tendenza ad arrabbiati a essere racconto magari preso da uno dei tuoi genitori oppure ad essere in ansia questi sono aspetti negativi quindi rimetterai in una colonna degli aspetti negativi oppure quelli positivi la generosità la la simpatia l'allegria ecco fai un elenco ben dettagliato ancora ciò che conta qui è la conoscenza di sé e quindi diventare sempre maggiormente consapevoli di quali sono gli aspetti che che ci caratterizza la terza attività che ti propongo di fare è collegata alla seconda ha sempre a che fare con le relazioni primarie con i genitori con quelle che sono state le relazioni più importanti della nostra vita domandati oltre quindi come abbiamo visto al secondo punto quali sono le modalità di relazione pensiero azione che hai assimilato dei tuoi genitori domandati anche quali sono i modelli stessi di pensiero e relazione che tu hai sviluppato in contrapposizione a loro a volte capita per esempio di aver avuto genitori magari molto controllanti e quindi di aver sviluppato una tendenza a voler fare esattamente l'opposto magari a nostra volta come genitori a non riuscire a esercitare il ben minimo controllo con i nostri figli ecco questo modello inverso che abbiamo sviluppato in antitesi a quello di relazione che abbiamo vissuto con i nostri genitori fai un elenco anche qui fai un elenco di quali sono le caratteristiche ancora positivo negative che hai sviluppato in contrapposizione o comunque in relazione a loro magari del tutto inedite ma sempre sviluppato in relazione a quello che era il legame che caratterizzava il tuo rapporto con i tuoi genitori anche questo è importante perché ci permette di avere una visione ancora più completo a questo punto ti suggerisco di fare un elenco ancora quindi un altro foglio con sopra tutte quelle che sono le abitudini che non ti vanno più bene nella tua vita vedi culturalmente a volte è l'idea che il carattere che abbiamo sia qualcosa di fisso di predeterminato di immodificabile carattere deriva da carasso dal greco carasso erano la stessa etimologia da cui deriva la moneta le monete venivano forgiate per continuo strofinamento ecco allo stesso continua incisione allo stesso modo il carattere viene inteso come qualcosa di costruito giorno dopo giorno e spesso viene pensato come immodificabile in realtà proprio questo stesso meccanismo che va a costituire il carattere e in realtà tutto il nostro sistema nervoso può essere utilizzato con consapevolezza quindi con la consapevolezza che le ripetizioni nella nostra vita giorno dopo giorno vanno a modificare anche quello che noi pensiamo essere il nostro carattere quindi qualcosa di concettualmente di modificare in realtà noi possiamo cambiare possiamo cambiare tanto e sono le abitudini della nostra vita quello che facciamo giorno dopo giorno che va a costituire il nostro carattere che va a costituire in generale la nostra personalità per cui fai un elenco di quali sono le abitudini quotidiane della tua vita che non vorresti più avere che vorresti modificare se ci riesci far entrare in queste anche le tue abitudini di pensiero perché no anch'essi sono degli atti che noi comunque compiamo consapevolmente o meno però parti dal concreto più facile parti dalle abitudini pratiche di ogni giorno mi sveglio al mattino che cosa faccio dopo colazione che tipo di colazione mi muovo faccio che cosa faccio ecco fai proprio un elenco di quelle che sono le abitudini della tua vita in particolare di quelle negative di cui vorresti liberarti ancora nuovamente con un elenco su una semplice riflessione auto riflessione prova a domandarti quali sono gli obiettivi della tua vita quali sono le le mete che per te sono rilevanti nella tua esistenza quelle che sono le cose che tu vuoi raggiungere cele chiare non ce l'è chiaro va bene anche se non sono chiari prova a riflettere su questo prova a domandarti se forse è il caso di di trovare degli obiettivi di avere un senso più ampio qualcosa verso cui tende perché vedi questo in genere è importante fai un semplice esercizio se hai voglia fai prova a immaginarti di essere arrivato alla fine della tua vita di essere anziano sono passati tantissimi anni sei arrivato alla fine della tua vita ovviamente per vecchiaia e a un certo punto ti guardi indietro prova a guardarti indietro e ora domandati cosa vorresti aver fatto quali sono le cose che vorresti aver ottenuto guardandoti indietro che cos'è che vorresti vedere quali sono le attività che vorresti aver svolto come avresti voluto impiegare il tuo tempo fatti queste domande sono importanti perché ti possono essere d'aiuto nel cercare di domandarti come veramente effettivamente vuoi vivere la tua vita quali sono gli obiettivi che ti puoi che ti vuoi porre quali sono ancora più in là i valori di riferimento più importanti ecco io penso che questo sia uno degli aspetti più importanti riuscire ad arrivare alla fine della nostra vita soddisfatti felici non sappiamo quanto possa durare la vita effimera lo sappiamo questo è un dato di realtà la questione però è come voglio vivere il tempo che ho a disposizione come voglio poterlo onorare appieno ecco questo è importante per cui prova proprio a domandati quali sono gli obiettivi quali sono le cose per me importanti la sesta attività che ti consiglio di fare per riuscire a conoscerti sempre meglio è molto semplice anch'essa un'abitudine che a mio avviso tutti dovremmo impostare nella nostra vita a che fare con la meditazione in particolare io utilizzo molto la mindfulness che una forma specifica se vogliamo di meditazione se vogliamo ancora più che meditazione è la base stessa della meditazione la concentrazione impara a praticare giorno dopo giorno la mindfulness il mio sito trovi molti tutorial a riguardo trovi degli mp3 inizia a praticare perché perché vedi la mindfulness aiuta a osservarsi medito indico me stesso in questo gioco di parole intende proprio il concetto imparare a osservare me stesso che cosa accade dentro di me quali sono i miei pensieri ricorrenti quali sono i miei stati d'animo ricorrenti perché in certi momenti la mia attività celebrale cerebrale è maggiormente attivata in altri meno che cosa sta accadendo ecco questo continuare giorno dopo giorno a riportare attenzione dentro di me a quello che accade dentro di me al respiro è ciò che mi aiuta maggiormente a diventare consapevole cosciente di me stesso a conoscere sempre più quali sono i meccanismi interni che mi contraddistinguono quindi anche quelli che ho ereditato dei genitori che abbiamo visto prima o quelli che ho assimilato nell'arco della vita o quelle che comunque posso anche aver scelto di avere perché no ecco imparare ad osservare diventarne consapevoli sempre di più è molto importante perché è il conoscere se stessi è qualcosa di molto pratico in realtà molto concreto conosco me stesso conosco i miei processi di pensiero come si sviluppano giorno dopo giorno che cosa mi interessa che cosa non mi interessa che cosa accade dentro di me la settima attività che ti suggerisco di fare è un'attività organizzativa semplicemente prendi carta e penna ancora e prova a strutturare la tua giornata abbiamo visto le abitudini che hai giorno per giorno ora prova a fare anche un un elenco strutturato dettagliato anche con gli orari se vuoi di quali sono le attività in generale che vorresti portare avanti nella sua quotidianità quanto tempo vorresti dedicare al sonno quanto tempo vorresti dedicare al alla ricreazione lo studio alle relazioni alla famiglia al lavoro alla creatività all'ozio quanto tempo vuoi dedicare a ciascuna attività e prova a immaginare come potresti strutturare al meglio nella tua vita magari non sarà subito facile riuscire a raggiungere un una quotidianità così come l'hai pensata ma anche questo dovrebbe farti interrogare su come è importante su quanto importante modificarsi cambiarsi su quanto importante lavorare su di sé per riuscire a diventare in grado di strutturare la nostra vita così come vorremmo che fosse prova a a mettere in atto tutti questi processi quindi a a strutturare veramente una un planning giornaliero della tua vita quotidiana come vorresti che fosse mi sveglio al mattino che cosa faccio dopo cosa mangio come sono mangio ecco anche questo è importante perché ti dà degli obiettivi ti da degli ideali sebbene che gli ideali sono a volte difficili da raggiungere questo è vero però allo stesso tempo sono fondamentali perché la vita senza ideale e triste è una vita che che si sperpera senza motivo pensa alla geometria con l'idea punto retta sono degli ideali non esistono nella realtà eppure su di esse abbiamo costruito tutta la geometria l'idea quindi focalizzati prova a domandarti come vorresti che fosse la tua quotidianità l'ottava riflessione che ti suggerisco di fare è quella di esaminare il tuo sistema di credo anche su questo ho fatto dei video specifici ma ti suggerisco proprio di approfondire questo qual è il tuo sistema di credo che cosa credi tu rispetto per esempio alla vita la morte in che cosa credi è importante questo perché vedi il nostro sistema di credo condiziona tantissimo la nostra esistenza e domandati anche questo quanto ciò in cui credi rispetto ai temi più importanti della nostra esistenza va a condizionare la tua vita se pensi di essere solamente un errore dell'evoluzione del nostro sistema solare oppure se pensi di essere un essere spirituale che ha una valenza molto più profonda ecco quello che il tuo sistema di credo va a condizionare poi il tuo modo di vivere percepire la vita ed è importante che tu ne sei consapevole che sappia cosa accade dentro di te così che tu possa anche decidere qual è il sistema di credo maggiormente coerente con la tua stessa vita e questa della coerenza questa della dell'effetto che il sistema di credo al solo la tua vita è la non attività che ti suggerisco di fare quindi analizza quale esso sia e soprattutto quale sia l'effetto che il tuo stesso sistema di credo ha su di te come ti influenza come ti condiziona che limiti ti da faccio un esempio banalmente un sistema di credo tipico è quello che ti dicevo prima rispetto al carattere noi pensiamo di essere già strutturati definiti immutabili che quello il nostro carattere il nostro temperamento e diversi studi hanno dimostrato che è vero che abbiamo un temperamento di base ma allo stesso tempo anche altri che hanno dimostrato che il nostro stesso temperamento può essere modificato sulla base delle nostre attività del nostro comportamento delle abitudini che ne andiamo ad impostare nella nostra vita ecco se il mio sistema di credo mi concede la possibilità di cambiare allora io posso cambiare ma se io invece credo che così sono così rimarrò e vado semplicemente accettato così come sono allora ecco che questo magari potrebbe essere un impedimento per cui analizza come il tuo sistema di credo e l'effetto che esso ha su di te infine mi auguro che anche in questo video tu possa da questo video tu possa cogliere il senso più profondo vero quello di imparare veramente a riconoscere l'importanza di conoscere se stessi di sapere come viviamo perché viviamo quali sono le nostre specifiche caratteristiche questa conoscenza è quella più importante come diceva appunto socrate è ciò che ci contraddistingue ciò che ci permette veramente di diventare ricercatore ricercatore interiore di noi stessi in grado veramente di conoscere noi stessi per cui ti auguro veramente di approfondire sempre più questo questo grazie a tutti